Buongiorno, io sono Andrea Gaudino, in rappresentanza di ACMOS di Torino e dello ZAC di Ivrea. Siamo arrivati oggi a Genova, un po' per visitare la città, ma soprattutto perché quest'anno il nostro movimento di ACMOS si è soffermato molto sul tema del G8, dei 20 anni dal 2001 e da tutti gli stragi che ha lasciato nei movimenti sia a livello nazionale che mondiale. Siamo proprio qua a Genova per stare negli spazi e in quei luoghi che hanno vissuto quella strage per conoscere con i nostri occhi e per fare questa esperienza non da soli ma in gruppo. Noi siamo un gruppo che chiamiamo GEC, gruppo di educazione alla cittadinanza e quindi ogni esperienza non sono delle esperienze del singolo ma della comunità, della collettività che si muove insieme. Ciao ragazzi! Perfetto!